Oggi per noi la sanità per una serie di ragioni è la sfida delle sfide, un corso di alta formazione per professionisti del settore della sanità proprio per tutte le implicazioni di carattere menageriale di cui la sanità ha bisogno e quindi sono stata molto contenta di esserci e di condividere come cercherò di condividere per il futuro proprio il disegno della nuova sanità dell'Umbria.